Il ritardo nella consegna della nuova fornitura di 75.000 dosi di vaccino anti-covid AstraZeneca ha provocato meno danni del previsto. Inizialmente si era parlato di 19.000 prenotazioni saltate, quelle già fissate dai cittadini nati dal 1941 al 1951 per il primo e il 2 aprile. In realtà il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, ha spiegato che è stato necessario riprogrammare solo quelle fissate per il primo aprile, che sono state spostate al 7 aprile, mentre tutte le altre sono confermate, comprese quelle del 2 aprile. Gianni ha detto di aver avuto un colloquio con il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, che l'ha rassicurato sull'arrivo dei prossimi carichi di vaccino. Ci sarà anticipato nella giornata di domani un carico da Roma, un anticipo di 10.000 dosi che poi noi restitueremo la prossima settimana, nel senso che quello che ci arriverà da AstraZeneca alla prossima fornitura sarà tagliata a 10.000 dosi come comprensibile da compensazione e quelle arrivando domani ci consentiranno, domani è il primo d'aprile, di poterle portare agli hub per la somministrazione regolare dal giorno 2 aprile. Insomma, i cittadini toscani che avevano prenotato la vaccinazione per il primo aprile potranno farsi somministrare il ziero nello stesso luogo e alla stessa ora, mercoledì 7 aprile. Non c'è bisogno di riprenotare l'appuntamento e un SMS informerà tutti gli interessati del cambio di giorno. Il resto del calendario resta invece invariato.